Ciao a tutti e bentornati con un altro potente di Blair Witch Oggi sarà un pelino più corta del solito perché? Perché non ce la faccio con i tempi a registrarne di più Per semplice motivo che questo brillante gioco ha avuto la genial idea di Cancellarmi l'ultimo salvataggio, quindi mi sono dovuto rifare un'ora per tornare in questo preciso punto Ok, grazie, grazie mille Blair Witch, grazie mille perché di tempo ne ho tanto io Eh, vabbè dai, mamma mia, mamma mia, eccetera Control, Man of Medan e qualcos'altro insomma, cioè veramente è un casino, un casino E in più il gioco ci si mette contro Allora Portate pazienza Sì Ups Ehi là Che succede? Che succede? No Alice evidentemente non sta molto bene, eh Lo credo Con quello che vede Dai Alice ripigliati Che ne premuto C per abbandonare Bullet Ma no, non abbandonarlo Stai più ribocciato, non va il problema No, mi sa che bisogna abbandonarlo allora, eh Ciao Bullet Dai vai Mi aspettavo un jump scare, per fortuna no Allora Allora Sì, sì Benissimo stai, benissimo Dai una carezzina, vero? Vieni qua, bel cagnolone Che te lo meriti, mi hai sempre aiutato Bravo, 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 bravo Bisognerebbe lavarti, eh Perché ti vedo un po' ispiro come pelo Però Sì? Tell me, tell me Dov'hai? Che fai? Questa roba qua Per il premisland Va, vabbè Premisland Ehm, non lo so No, ci siamo bloccati Ciupro di qua Avanti per il sentiero Vediamo di scoprire qualcosa di interessante Sì Oh, quello di prima Cacchio E far l'altro io li ho appena rivisti, eh Sì, sì Di qua Di qua Ok, andiamo di qua Scusiamoci Ok So milk camp E dobbiamo andare alla falla di ammeria Per cui direi di andare di qua Sì, ma Con quei cosi lì? Ma siamo sicuri? Eh, e quindi cosa bisogna fare? Aio Ah Ok Ahio Ahio Sì, perfetto Non ho mai capito come si fa allora C'è qualcosa che non mi torna Questa volta non riusciremo a sgattagli l'aria in fianco E questo qua l'ho capito E quindi Eh, io così non li respingo mica, eh Come ne mettiamo Sì, ma anche dall'altra parte C'era il binario Vabbè, non importa Quanto ci mette a ripigliarsi dall'attacco Tanto a quanto pare Come here boy Sentiamo? Eh, dimmi Bene Tutto è niente direi, eh Do cazzo è andato bullet Mamma mia Che cane disorganizzato Andiamo di lava Quindi volevamo andare alla segheria Ma purtroppo ci sono quei mostri lì Per cui niente da fare Tocca fare il giro decisamente in largo Tipo il giro dall'altra parte del pianeta praticamente Perché stiamo andando completamente nella parte opposta Per cui Dimmi Cosa c'è? Un mostro? Un mostro? Da qualche parte? Oh Che cazzo roda stavi abbagliando Sì? Niente fuori di testa sto cane Un carrello Ah Adesso ci salgo E posso andare verso la segheria Ah Ho capito Bullet Up Bullet Okay Che cos'è questo? Fabricato da Leva direzionale Pulsante d'accensione Avanti e indietro Leva del freno Okay Allora Accendiamo No Accendiamo Avanti E il freno è qua Perfetto Ciao a tutti E bentronato con un'altra puntata di Blair Witch Allora vi chiedo immensamente scuso da parte di Bloober Team Dato che ha fatto una grandissima cagata nell'ottimizzazione di questo gioco Perché il gioco effettivamente è ottimizzato decisamente male Allora Allora vediamo un attimo Sperando che questo episodio venga registrato bene Il cacchio c'è qua? Mamma mia si vede peggio del solido Ok Eh infatti per evitare problemi Ho Abbassato leggermente la qualità grafica Non tanta roba E non vi preoccupate Perché comunque è molto molto bello da vedere Qualcosina Questa parte io l'avevo già fatta nell'altro episodio Però Tocca rifarla Quando cazzo stai Perché c'è così buio? Uile là È qua È qua Via 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 Ok se n'è andato Perfetto Allora andiamo a prendere i pezzi che ci mancano di qua quindi Di nuovo scusa ragazzi Mi spiace La targhetta Ok questo cammello ricordavo bene o male Poi No bisogna fare il giro con bullet Vero? L'area ha preso l'ultima per l'argano Va bene ok dopo ci andiamo Allora Allora Vai vai bullet Bye 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 E fin qua ragazzi ci siamo Devo dire comunque che anche abbassando la qualità Cavolo è ancora bello da vedere Maledetti sviluppatori Io vorrei arrabbiarmi con loro Ma non ce la faccio cazzo Non ce la faccio perché ha preso il loro lavoro Dopo è ovvio che Qualche cassata l'ha fatta anche loro Per carica Però cavolo Impostazioni Eccolo Quello che bello che è ancora Vabbè Allora Io direi che possiamo andare all'area B All'area B Che fra l'altro Voi non l'avete visto Ma mi si era bugato Strano eh Strano Molto strano che mi si fosse bugato questo gioco Eeeh Mi si era bugato perché? Perché Dovevo mettere un fusibile E non me lo facevo più mettere Si vede che ho sbagliato l'ordine delle cose Non c'era E vai Oh 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 Ancora Dove sei? Di là? Ok Via Oh porca vacca Ehi ehi Ma quanti sono? Due? Tre? Quattro? Che cazzo? Oh 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 Ok Finiti bene Questi rumori maledetti Andiamo a trovare sto pezzo mancante Ah Adesso si è attivato bene allora Vabbè Allora io so già che qua ci va No dov'è? Lì sopra Perfetto Adesso voi vi starete chiedendo Perché sai già tutto? Perché sta parte qua Mi si è bugata quattro volte Quattro volte Ok Infatti è proprio che avete visto Dell'editing strano prima Lasciamo stare Prima che sparo Ai cose Gli sviluppatori No Sparo no Però veramente Mi staccarei la testa Quello si Beh Ah ok Perfetto Bene Teoricamente Qua dovremmo trovare Il pezzo mancante O almeno spero O almeno spero Oh ok 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 L'ho trovato Penso Eccolo qua Con il buio era quasi impossibile Oh perfetto Ma spererei di si Eccolo qua Perfetto ragazzi Perfetto Finalmente Mamma mia Vi giuro Io sto apprezzando moltissimo Questo gioco Ma tecnicamente Tecnicamente Quindi Ottimizzazione grafica E bug Che addirittura Vi bloccano i progressi Voi cercate Vi giuro Su internet Trovate il disastro E io lo sto sperimentando In prima persona Perché per fare Tre ore di registrazione Ne avrò impiegate Minimo Minimo Cinque e mezza Tra prova Riprova Bug Ria via Cancella registrazione Per compito Delle filmizzazioni Eccetera eccetera Mi sta proprio togliendo L'anima Questo gioco E io non so se L'hanno programmato Per fare questo Ma spererei di no Eppure lo sta facendo Mamma mia Che disastro Che disastro Io penso che alla fine Di questo gioco Farò anche una recensione Giusto per farvi capire Se Vale la pena O meno Perché veramente Lasciamo stare Io in momento Non dico nulla Ne parleremo Ne parleremo Ok E qua direi che possiamo Tornare indietro Giusto? Dai vai Alla segheria Venocce Venocce Forza 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 Un altro po' Perché qua c'è in mente Non si scede Giusto? Oro 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 Perché vai così piano? Dai Mamma mia che lentezza Ma c'è Fai una mano Tirato Dai Lento Lento Eccoci qua Eccoci qua Eccoci qua Oh porca vacca Da fuck No che cazzo fai? Tira a freno a mano What the fuck Happened? C'era qualcuno lì Porcaccia Miseriaccia Allora vediamo un attimo Qua dovremmo mettere questo E questo Oh finalmente Ma stai scherzando Non dirmi che manca anche la cosa No non ci credo Vediamo un attimo Guarda le registrazioni No non questo Dai La macchina Tua mamma Vediamo ragazzi Oh perfetto Perfetto Metti via sta telecamera Sul verde eh Vediamo Tira 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 Dai Oh perfetto Ce la stiamo facendo Mamma mia ragazzi È come un parto sta cosa Come un parto Se solo sapeste la fatica Che ci ho messo per farlo E non per colpa mia eh Cioè un pochino sì Ma non completamente Bonetto cosa fai? Mi dà fastidio la tua felicità Cacchio Vieni qua Allora ce l'abbiamo fatta o no? Dai Dai Ah ha finito E vai E vai E vai E vai Io e freno Vai avanti Non indietro Vabbè Adesso è andato Evidentemente Riccando Si è rimesso male L'impostazione lì Perché non era così prima Vabbè insomma No comment No comment No comment Diciamo 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 bello 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 questa ambientazione però un po' inquietante anzi un po' tanto direi però bello dai ah finalmente siamo ritornati nel punto di prima quindi qua ci saranno sicuramente le presenze per terra che però noi eviteremo tranquillamente grazie a il coso qua il carrello yey e vai ciao ciao bastardi si si vieni pure non è un problema tra sarà tutto finito bene dai tra poco sarà tutto finito oh 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 eh no che succede paura oh cazzo più veloce Oh Ah io non posso fare molto Dove solo aspettare e pregare Sperare e pregare Dai ce l'abbiamo fatta credo Ma difficili di andare su un ponte del genere Che cosa What Cosa sta succedendo Paura Paura Wow Ah niente il carello ha ceduto Adesso si pianterà completamente A quanto pare si Come on buddy Buddy come on Yeah Alice Scegheria Sì, dai, metti giù Scusate Tadam Ops, acqua Non mi piace The fuck Un tronco che rotola Acqua che si muove A quanto pare Sì, è questo il posto che cercavi Era parecchio inquietante in effetti E luce fu E luce fu Sì? Hai qualcosa da dirmi, Bullet? C'è qualche oggetto qua per caso? No Che cacchio Ah, vai Dovamo andare di dentro? Aspetta un secondo Raffaele Guardiamo la cassetta Oula Ho scendito la porta a aprire Sì, sì Ok Ah, Bullet Stai buono Va bene E questa qua è la porta che hai visto, sì? Quiet boy Tanto delle cose strane ragazzi Qua mi sto cagando sotto io Allora qua dici Locked Allora facciamo così Scusate Così In seguimento Vediamo Ok Ok L'ho visto Non è una strega Né un mostro Ma un uomo Un uomo con la pelle squogliata di una persona Mi ha visto e ora sta arrivando Carver lo squogliatore What the fuck Non dirmi così 3, 3, 2, 4 Non si apre questo, eh Bloober Ma cosa? Barbara Ma questo qua è Del team Vabbè 3, 3, 2, 4 Vediamo se Magari è da applicare Sto coso qua 3, 3, 2, 4 E vai Genius Genius Mi devo preoccupare? Penso di sì Cosa? C'è qualcuno di dietro? No E' senza piede questo qua Io non so chi sia Comunque adesso la guardiamo Chi sei? Chi sei? Eh Non lo so Mamma mia Dove sono? Oh cavolo No poveretto Mamma mia Ok Cazzo Forse è il caso di sgridarlo Bullet per la prima volta Cioè è andato dall'assassino Non so se l'avete notato Ma quello lì è l'assassino That man Cosa stai facendo Bullet? Ma non ti stai cagando addosso Sceriffo Quello che Quel cazzo che sai Cioè è quello che ha squartato l'uomo You killed Landing You killed לה Did you see her What? When you looked into their eyes Did you see her Where's Peter? What have you done to him? It's not time yet He Awaits Stop messing with me Or what? Wow Vale il design di questo coso Ops Ma non è che sia tipo il suo subconscio questo Aio Non posso fare niente ragazzi Oioioioi Ok Il gioco sta progredendo bene per quanto riguarda la narrazione Di quello sono contento Il gioco 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 Un soldato. Deve essere stato morto. Non potrei restare. Non era la tua scuola, Ellis. Molto, molto semplice. Oh, sei molto semplice. Sono semplice come tu una volta. Voi vedere questa scuola? Mi ricordo prenderlo contro la mia braccia. Prendendolo più profondamente e più profondamente. Voglio finire tutto. Per silenzare la voce. Lecce. Pathetico. Mi dovrei ascoltare dal comando. E' quello che mi ha fatto libero. Voi capire in breve. Che risvolti particolari che ha questo gioco. E adesso? Bene, ragazzi. Noi qua... Chiudiamo la puntata. Grazie. E alla prossima. Ciao.